lunedì 18 marzo farò una missione inter team inter clan su arma 3 insieme a un team francese a livello europeo questa è un'esperienza da fare assolutamente se si è appassionati nel settore devo dire che questa esperienza mi cambierà totalmente la visione di gioco ragazzi non vedo l'ora di partecipare lunedì ci sarà operazione rock questa è una missione completamente gestita e creata dal team francese che simulerà il delta force in collaborazione col dev group rappresentato da noi da come possiamo vedere questo è un book è un praticamente un briefing sotto forma di libro in parole povere da come potete vedere è una missione molto delicata partiremo da delle imbarcazioni da come potete vedere e muoveremo verso gaza city questo verrà fatto alle 2 di notte del marzo 18 2024 come c'è scritto nel briefing da come potete vedere è fatto veramente bene un applauso al mission maker creatore dello scenario francese che ci ha condiviso questo briefing abbiamo comunque degli asset abbiamo dei velivoli abbiamo anche il nostro pilota quindi un grande in bocca al lupo al nostro pilota phantom del 160esimo soar niente noi siamo praticamente pronti ci stiamo allenando e siamo gasatissimi per questo evento ovviamente l'evento non è aperto a tutti ma i soli migliori operatori della brigata corvinieri che vanno a formare quello che è il dev group red squadron quindi operatori tier 1 bene ho fatto questa anticipazione questa sorta di intro che poi vi porterà lunedì con me in questa partita incredibile in questa missione milsim europea adesso vi lascio un paio di immagini del training che abbiamo fatto lunedì per farvi vedere un po' come ci stiamo allenando io vi saluto vi ringrazio sempre ragazzi mi raccomando passate dalla mia pagina instagram per non perdervi nessuna novità del canale io vi ringrazio vi do buona visione e un saluto ed un abbraccio dal vostro blake io vi ringrazio vi ringrazio i conti Grazie a tutti il team inizia la missione e seguire l'ecchio nuovo a sinistra passa. Ricevuto blue team muoviamo a destra righi apri il movimento Tutti sulla casa ci riorganizziamo Vai passo Andiamo 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 a stella Andiamo su 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 dobbiamo andare su Copi copi stiamo andando su noi Con te con tre andrei Copi copi clear Red qui blu edificio 002 primo piano clear ripeto libero Break trovato ostaggio ripeto trovato ostaggio al primo piano Andrei facciamo una copertura all'ostaggio Ragazzi ho bisogno che mi guardi gli ostaggi Se mi dai una controllata gli ostaggi Scenzi 5am and i'm up again I got tired eyes I got tired eyes need a cover blend That's right In the am that's my only friend No light Just the sun coming up on the horizon I lose track of time Yeah move fast and climb A new class divine Grazie a tutti. Grazie a tutti. André e Righi stand by me sulla vostra posizione. Mantieni, Righi, mantieni. Andrè, ci sono con te. Ti copro per l'altro destro, ti copro per l'altro destro. Preparo una flash. Sì, la preparo. Flash out. Tutti giù. Controllo lato sinistro. Clear qui, dobbiamo andare su. Red qui, blu, jackpot sull'ostaggio. Ricevuto, è possibile richiedere già exfil per l'ostaggio? Yatta, mi sapeva una curata. Ci scambiamo. Avanti, avanti Red. Copiato per landing zone alpha all'interno del mercato. Qui blu attende vostro ordine per muoversi con l'ostaggio. Passo. Ricevuto, confermo, landing zone alpha in visual sul dispositivo. Ci muoviamo, passo. Andiamo ragazzi. Righi. Apro, eh. Ok, sembra clear. Facciamo una testa di ponte a Yatta. Vai. Andiamo, 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 andiamo. Vai che vi copro. Via, 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 via. Vai, Righi. Red, qui blu. Stiamo raggiungendo l'elicottero. Dieci secondi e siamo su. Copy, blu team e sfiltrare. Via, via, tutti sull'elicottero per il blu team. Dei non sguardo l'ostaggio nel frattempo stè. Grazie a tutti. Grazie a tutti.